Grazie al gioco di squadra tra comune, proloco, associazioni e commercianti, anche questa estate a Capracotta viene proposto un cartellone di eventi davvero ricco. Quello di maggior richiamo è la Pezzata, ma non è di certo l'unico. Inizierà domenica 5 agosto con la Sagra della Pezzata, giunta ormai alla sua 53esima edizione, una delle sagre più antiche d'Italia e vi invitiamo sicuramente a partecipare numerosi. Poi vi segnalo altri due appuntamenti che sono quello del 10 agosto, la Notte dei Desideri, che si svolgerà presso lo scenario della Terra Vecchia, il Belvedere di Capracotta e vedrà anche la partecipazione di artisti di strada che aglieteranno la serata, oltre a musica popolare. Poi per i più giovani, una novità di quest'anno è il White and Black Party, che avrà luogo il 18 agosto e vedrà la partecipazione di due noti DJ molisani, Pippo Venditti e Luciano Barletta. Fra gli altri appuntamenti in agenda, da segnalare gli incontri con Don Luigi Ciotti e Mimmo Locasciulli, oltre alla giornata dedicata a Erasmo Iacovone, calciatore originario del paese alto molisano e bandiera del Taranto. Mentre per gli amanti dello sport e della natura spicca la gara di corse in montagna Capracotta Trail, organizzata dallo Sciclab. Insomma, ce n'è davvero per tutti i gusti. Spaziano dalla cultura, quindi dalla presentazione di libri, dibattiti importanti, escursioni sui nostri sentieri. Abbiamo una sentieristica, come è noto, perfetta, in ottime condizioni. Avremo la possibilità di fruire da quest'anno, già da domenica prossima, del nuovo Parco Avventura, che sarà inaugurato appunto domenica. E poi una serie di altri appuntamenti musicali, di cose belle. Insomma, Capracotta rimane il luogo ideale per chi vuole venire a trascorrere le proprie vacanze in Molise. È il centro, se posso dire, in qualche modo privilegiato delle vacanze che mettono insieme ambiente, cultura, salubrità dell'aria e soprattutto anche tanto agroalimentare di qualità.